Ciao ragazzi, benvenuti in questo episodio 3 per me questa droga mi ha fatto perdere il conto del tempo eh già no, l'episodio 3 di MU2 Scala di Risate con SuperAndre998 Ciao a tutti no, il pozzo mi rifiuto di farlo, se mi permetti mi rifiuto e in pratica oggi riproveremo un'altra missione le scorse due volte insomma era andata un po' male diciamo direi che non saprete mai il nostro segreto per fare così tanta schifo per fare così tanto schifo, non lo saprete mai il nostro segreto no, no, anni e anni di pratica ragazzi aspettate, vi voglio far vedere una cosa vi ricordate che noi abbiamo fatto, dove è? nascosto bene, il miglior tempo dell'Infinity World è 1 minuto e 45 quando da solo a veterano 10 e 38 ci ho messo adesso ragazzi è umanamente possibile vi chiederete fare 1 minuto e 45 secondi neanche facendo tutta la mappa correndo senza nemici, senza niente, diritto in linea retta non puoi, non puoi, non hai il tempo dovrebbe parlare, è tempo di Gesù più o meno ah no, un attimo, è la cosa ancora più scandalosa vai su delta eh, guardiamo per di te accettare 48 secondi ragazzi 48 secondi è umiliante noi non ce l'abbiamo fatta in mezz'ora loro in 48 secondi per capire di che stiamo parlando guardate la puntata 1 vi assicuro che vi farete un'idea comunque, in questa puntata, ci siamo già accordati facciamo questa missione chiamata Grande Fratello io faccio quello a terra, tu fai il... lo sparatore del cielo noi facevamo lo sparatore del cielo e vabbè ci alterniamo, tanto moriremo tanti di quelle volte quindi ci possiamo alternare esatto, hai ragione no, metti veterano mi sembra ovvio ho messo veterano sicuro? no, era soldato e si torna indietro no, prima proviamo a soldato vabbè dai soldato non siamo così no, dai veterano sennò non è bello scusa sennò non moriamo appunto dai se non si muore poi scusate per le mie capacità è limitato soldato che ti eri inciampato allo si ragazzi proviamoci dai in breve che dobbiamo fare? lui deve arrivare a destinazione io lo devo coprire con la torretta ma voi pensate che sia facile ma l'elicottero va dove vuole esatto mica lo puoi decidere te dove va l'elicottero cioè io tipo lo abbandono no? eh, se tu spari paura nooo il controller che mi abbandono proprio adesso no bestie suine dai farli fuori andre vabbè dai questi qui ma soldato è facile adesso c'è il quartiere il quartiere dimenticato da dio il quartiere tranquillo bestie suine io intanto l'elicottero vado bene mi dite di impare sono un po' delle bestie ah, meno male meno male che era facile vabbè era per scandarsi ma sei sicuro che è soldato? si scandaloso scandaloso io è scandaloso davvero vabbè dai fai ancora te signore fai tu la divinità ancora per un po' la divinità Dio per quanto possa essere utile essere una rinunita uuuh dai corri veloce vai corri veloce così almeno io posso cerchinate anzi, 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 anzi no c'è un video animale aspetta, aspetta, stai fermo, stai fermo lì coltellato con un suoi ti dico io quando spuntano dall'angolo quando spuntano dall'angolo ok spuntano dall'angolo eh aspetta c'è il mio guarda l'icottero bastardo oh Gesù ah grazie mi hai fatto spuntare dall'angolo proprio quando arrivava la legione armata Gesù io non li vedo sono lontani 3 km voglio dire lo striker dammi lo striker andrei non fare in piccazza voglio lo striker sono vicino a una macchina vai vai che ti sto liberando ok ok qualcosa è esploso Infatti Mi sembrava che non potevano uccidermi Beh ragazzi questo è soldato più o meno Eh dai questo è soldato Però mi piaceva lo Stalker Lo riprendo Ok muoio ancora una volta e poi fai tu Dio Ok faccio io Dio Mi stanno sparando Sì un secondo Non mi piace quello di sparare Suini Suini Animale cane Ti giuro che se mi ammazzi ti stupro la mamma Dopo che gli è finita la crisi epilettica Voglio scoprire dove ha messo lo Stalker Eccolo qua Attento che lì fuori c'è la legione Sì la legione armata lo so Lo so Imbottiti di steroidi Di rabia e di varie droghe Per renderli immortali Hai visto che vuolo che ti ha fatto Caniii Non farti ammazzare No no sto qui nell'angolino Che non bravo pupano Eccoli eccoli che arrivano Uno scusa che riesce Eccoli degli spari Ok dovrebbe essere libero Dopo aver ricaricato il mio fucilozzo O meglio No 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 Degli spari Non mi idea non è libero Non è libero Io non riesco C'è un numero indefinito di nemici che si sta propinquando Che siamo a soldato Un numero indefinito Granata Granata che risolve tutto Più o meno Ti risolve la vita E non esplosa Quanti sono Prova ad andare avanti Inza stare fermo Ok basta Sicario infallibile ora La 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 Attenzione Va che molto arriva il casino Stai sparando da sinistra Da sinistra? Solo da sinistra E' riduttivo da sinistra Davvero tu? Rimangio Dimmi da dove non mi stanno sparando Del cielo Non ti stanno sparando da sottoterra Questo lo puoi dire Nel tuo burro si Un cane animale Non sparano anche un buchino a me Mamma mia Attenzione che arma super Guarda quanti Ovviamente tu sei tipo Della task force Sei di qualche Di qualche cosa Strafigosa E delle armi Quanti E delle armi che sono Un insulto Ti consiglierai di sbrigarti Perché se no Eh lo sai Se no vai da chissà dove Se no vai da chissà dove Granata Boncino Boncino Ma quanti? Animali Animali Non so dove sparare Perché c'ho davanti Solo fumo di marijuana Anch'io non capisco niente Vedo cose che si muovono Ma non capisco Vai 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 Non so dove sto andando Non so chi mi sta sparando Da dietro mi stanno sparando Mi volevo andare Ma devi andare dove c'è il No fantastico No ma mi sei girato Mi ricordo Lo sai che probabilmente qui Dove sto correndo io c'è l'universo Sì di sicuro Non è un problema Corri corri più veloce Che puoi al tetto del risparato Corri 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 ti vedo Ah sì mi ricordo che qui mi ero inciampato Adesso mi ricordo Sto arrivando l'ira di dio a prenderti C'è una specie di gradino Tipo ci sono 67 camion sotto di te Vai 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 Very wonderful Cerca di dire Bellissimo bellissimo davvero Cerca di dire Ti muovi con questo elicottero Corri Ma che corri ti devi muovere Ah ce l'ho fatta Madonna che volo volo lì Ho preso il volo Animali Consiglierei di sbrigarti Salta sull'elicottero E non perché ho saltato bene Perché ti agganci in automatico Non pensare Meno male Animali Suini Non so dove sparo Ma prendete L'abbiamo fatta ragazzi Ovviamente il tempo dell'infinity world Sarà 30 secondi In questa missione Sì però dai soldato Adesso riproviamo veterano E voglio fare io dio Aspetta Sì vai avanti Voglio avere io il potere stavolta Vuoi avere tu il potere? Voglio avere E ricordiamo esperto No no Hai esperto Fai il veterano A veterano ci fanno il culo Non è che ce lo harano Ce lo asfaltano Ce lo asfaltano Ti uccidono Te lo aprono Esatto Esperto Andrea Non è possibile Ma mentre sei ancora vivo Magari Esperto Vabbè dai Io faccio dio Ospite 2 Ragazzi Io ho paura Ti coprirò io dall'alto Della mia divinità Sì certo Diventi solo un nemico in chiusa E ti metti nell'elicottero Anzi rendi il lavoro più facile ai nemici Che poi guardi Mobilitano tipo 40.000 soldati Per un uomo Sì per un uomo Un elicotterino Che poi basterebbe un RPG Cos'è che ci vuole Hai visto che raggi hanno Il loro RPG E tipo se proprio Io sono quello Con il nome verde sopra Quello? Ragazzi mi assicuro Che io non mi ricordo più Come si gioca Mi assicuro che io non so Bombardo Ecco Posso passare E' permesso E' permesso Ok Proteggi il vialetto Perché muore Grazie Se sei pilota Ma dove gli pare Sai com'è Mira sempre a destra Perché muo Mi arrivano a prendere Il pilota Fa quello che vuole Ma che bello essere dio Mi piace più stare sull'elicottero Non sei in pericolo Gli altri La gente spara a te Non a me Sì io sto Io sto correndo Dove capita Spara i nemici Spara i nemici Ma non so dove sono i nemici Io so sparato a caso E già tanto sono un piglio a te Dai Andre Fida i nemici Ma cosa sono Tu schiavo nero Sono stato perché sono sull'elicottero Spara i nemici Spara la mamma Spara il papà Dai Dai schiavo nero Dopo dividiamo la banana Eh dividiamo la banana La dividiamo Ci sei? Eh tu ci sei Io ci sono Aspetta che c'è qui una macchina sospetta Una macchina sospetta Anche le macchine sono tuoi nemici Ah non lo sapevo Così si potesse ricaricare No 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 Ti stordisci da solo Io non ti posso essere d'aiuto L'elicottero L'elicottero è già a casa di Dio È già Aiutami Aiutami L'elicottero era già andato da un pezzo Riproviamo signori Buona fortuna soldato Mi fai bisogno A parte la benedizione di Dio Mi potete Mi avrai bisogno Di fortuna A parte tipo L'immortalità di Dio Non è Vero Però Vedo qua Vedo qualche amico Adesso Adesso Aspetta cosa ti c'è qua Ma Soprima A parte Ma Non ti sei E' Stata Grazie Capirato 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 aiutami non mi fa poco testi da macello carina macello da macello numero di punti rossi parli fuori e morite schiavi colonizzati no non devi lasciare che mi arrivino lì davanti al naso questo fucile qua dai su vai lì dovrebbe esserci qualcuno si adesso appaiono stai pronta ok mo arriva che fucile di merda che pilota rincoglionito oh ma cosa te ne vai di qui che pilota rincoglionito no da dove da dove è spuntato ma secondo te ci si può drogare prima di pilotare un elicottero secondo te io sono da tutt'altra parte quindi sta facendo il giro panoramico quindi non saprei dove non saprei come aiutarlo Dio guardatelo non saprei come aiutarti sta facendo il giro panoramico ti uccidi più nel mio dispositivo perché io la pompa di benzina è saltata diciamo che non sto mirando con grandi oh il blindato il blindato il blindato il blindato c'è anche il blindato si però nessuno era un camion che è un blindato mi hai fatto paura no perché abbiamo cambiato esperto e perciò non è che vai 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 non lasciarmi nessuno per favore ascolta non so se te ne rendi conto ma io sparo a caso no 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 se vedo qualche cosa che si muove tanto meglio bravo bravo ma in generale sparo a caso bravo qualunque cosa che si muove eccetto il mio nome se non fosse che c'è uno stupido tetto che mi impedisce di prendere il 90% qualunque cosa si muove se c'è qualche pazzo suicida che invece si che esce lo faccio fuori però ok ci siamo corriamo corriamo adesso è soltanto lavoro tuo ok ah mio si sono a destra comunque tanto per informazione arrivano dalla mia destra e da dietro no 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 salvataggio file il Grazie a tutti.